Quinta domenica del tempo ordinario, le odierne parole di Gesù seguono immediatamente la proclamazione delle beatitudini che abbiamo ascoltato domenica scorsa, l'unica via per essere veramente felici secondo il Vangelo, non ce n'è un'altra. Siamo ancora sul monte dove Gesù ha fatto questa proclamazione e sta parlando ancora una volta ai suoi discepoli. Saranno delle parole tanto più comprensibili quanto più sincera sarà l'accoglienza della via indicata dalle beatitudini, cioè non si possono vivere queste parole che ascoltiamo nel Vangelo di oggi senza aver capito e aver accolto quelle di domenica scorsa. Comunque è evidente che il tema principale della liturgia della parola di questa domenica sia il discepolo come luce, il discepolo di Gesù come luce. Nella prima lettura infatti nel Salmo e nel Vangelo si parla ripetutamente ed esplicitamente di luce, solo la seconda lettura ne parla indirettamente con il discorso che Paolo fa sulla sapienza della croce e la manifestazione dello spirito. Se Gesù è veramente la luce del mondo allora il suo discepolo si riconoscerà dalla luce che il suo volto riflette, dalla luce che la sua parola e le sue azioni diffondono. In altre parole dalla sua più squisita umanità dovrà emanare questa luce. Dunque dovunque egli sia porta quella luce. Ecco il senso dell'affermazione di Gesù che dice al presente non al futuro voi sarete. Voi siete la luce del mondo perché chi porta e custodisce Dio nel suo cuore farà crescere inesorabilmente quella luce e non solo. Infatti Gesù afferma un'altra caratteristica dei suoi discepoli. Voi siete il sale della terra. Questi giorni mentre meditavo questo questo testo ancora una volta era come se sentisse il Signore dire voi siete uomini come gli altri siete tratti dalla terra siete come tutti che vivono e muoiono su questa terra ma nello stesso tempo per il fatto che dentro di voi è nascosto qualcuno che dà sapore e vigore alla vostra fragile vita terrena voi non siete come gli altri ma non vi dico che siete migliori degli altri ma siete la differenza in mezzo agli altri. Infatti gli altri che ancora non hanno conosciuto Gesù hanno bisogno di assaporare e di contemplare questo sale questa luce per poterli a scoprire in sé. La giovane cioè faccio un esempio io pensavo non ho mai cercato il Signore è Lui che è venuto a cercare me nella mia storia e lo ha fatto così. Ho visto per la prima volta tutto iniziato così per la mia per la mia conversione ho visto per la prima volta un prete felice e nel corso di quella celebrazione eucaristica da Lui presieduto ho sentito che le sue parole arrivavano alle mie orecchie con un altro sapore. Perché? Perché mi sono nate subito tante domande e così tanta attrazione così tanta voglia di parlare a quel prete come mai un sacerdote incuriosiva uno come me che non aveva più a che fare con la fede con la chiesa da un bel pezzo. È molto interessante scoprire che le parole sapere e sapore hanno la stessa etimologia. C'è insomma una conoscenza che se è reale ha il potere di contagiare la vita altrui. Questa è la conoscenza del Signore Gesù perché ti introduce in un mondo che non è tuo e in una sapienza che non è tua non è di questo mondo. Il vero discepolo dunque è colui che ha fatto realmente questa conoscenza perché ne ha fatto esperienza. Per questo proprio il discepolo amato San Giovanni Evangelista dice nell'incipit della sua prima lettura primo capitolo quello che era fin da principio quello che noi abbiamo udito quello che abbiamo visto con i nostri occhi, quello che abbiamo contemplato e che le nostre mani hanno toccato. Vedete come Giovanni fa riferimento a un'esperienza molto concreta. Ma così come si sente il sapore, cioè il sale di un discepolo, così se ne può sentire anche la sua insipidezza o insipienza. Come dice Gesù appunto, ma se il sale perde il suo sapore, con che cosa lo si renderà salato? Ricordo il mio professore di esegesi neotestamentaria quando mise in crisi tutti noi studenti, quando proprio su questo testo ci domandò improvvisamente, ma il sale può davvero perdere il suo sapore? E alla fine ci sorrideva, nessuno sapeva rispondere, ma il punto è che alludeva al fatto che chimicamente questo è impossibile, altrimenti non è più il sale, non ha più la sua identità. Quindi il Signore ricorre a un paradosso, come sempre, per cercare di trasmettere un messaggio ben preciso ai suoi uditori. E il messaggio è questo. Il discepolo sia attento a curare e approfondire sempre di più la sua identità, cioè a scoprire che cosa Dio ha fatto di lui con il dono della vita nuova, chiamandolo a scoprire la vita nuova in Cristo nel suo battesimo, se non vuole incappare nella cosa peggiore che gli possa capitare. Che attenzione, la cosa peggiore non è le tante disgrazie che tante volte nel nostro pessimismo possiamo immaginare che avvengano nella nostra vita e non è nemmeno il peccato. La cosa peggiore che ci può capitare è perdere la nostra identità cristiana che abbiamo visto declinata nelle beatitudini di domenica scorsa. Se infatti io non mi ritrovo in quella via non sono cristiano, per quanto io cerchi di apparire tale o mi dia da fare per dimostrarlo. Del resto sembra proprio che ci sia un caso in cui il sale però può perdere il suo sapore, scusate, ed è proprio il caso del sale impuro, quello che praticamente ha degli additivi, è pieno di additivi. Se lasciato con questi additivi alla lunga, il sale perde la sua capacità di insaporire. Fuori metafora, il discepolo verifichi sempre la sua identità alla luce delle beatitudini proclamate da Gesù e si guardi dal vivere un Vangelo adulterato, annacquato, altrimenti prima o poi la sua doppiezza di vita verrà galla. Paradossale è anche l'eventualità ovviamente impossibile di qualcuno che decidesse di porre una lampada sotto un recipiente, sotto il moggio, come dice Gesù. Non ha senso, nessuno lo farebbe. Così come è impossibile che una città costruita su un monte si renda invisibile. Allora perché il Signore ci parla così anche a proposito del nostro essere luce? E in ballo c'è sempre la questione dell'identità. La luce della fede che si è accesa nella nostra vita è come la luce naturale, per sua natura è diffusiva, si deve diffondere. È fatta per illuminare tutto ciò che la circonda, come la luce. Diversamente non è luce, è così un cristiano. ha ricevuto un dono così grande, una vita così nuova che non può essere né trattenuta né vissuta in forma privata. Ha ricevuto qualcosa in dono che solo se dona a sua volta si può vedere. Ha ricevuto qualcosa che risplende in un mondo di tenebre. Se non risplende allora vuol dire che non è il dono di Dio. Perciò Gesù dice risplenda la vostra luce davanti agli uomini perché vedano le vostre opere buone e rendano gloria al Padre che è nei cieli. Non è questione di apparire, non è questione di farsi vedere, ma è il discorso che se il discepolo è ben agganciato al suo Signore che è sempre luce, allora le sue opere parlano anche agli uomini che non sono in casa, cioè che non sono nella Chiesa perché quello che uno è parla più di quello che dice. Ed è per questo che Francesco d'Assisi riuscì a parlare anche al Sultano d'Egitto. Una Madre Teresa di Calcutta riuscì a parlare anche all'autorità del Comune di Calcutta che si vedeva tutta la cittadinanza addosso per non dare il Tempio della Dea Calì dove Madre Teresa aprì la prima casa di accoglienza per i moribondi. una Madre Teresa non avrebbe parlato ai potenti del mondo, un Chard de Foucauld non avrebbe mai parlato al popolo Tuareg nel deserto del Sala e il venerabile cardinal François Nguyen Vantuan non avrebbe mai parlato ai suoi carcerieri Vietnam, ma se lo fecero tutti questi esempi di uomini santi che sappiamo santi che ci hanno preceduto vuol dire che davvero chi è ben collegato agganciato al Signore Gesù diventa sale e luce per il mondo come fu la sua vita. Buona Domenica a tutti.